Questa sono io e questo è il piccolo villaggio delle Filippine da dove vengo. Quando sono arrivata a Torino non parlavo una parola di italiano. Figuriamoci cosa potevo capire di parole come conto corrente o tasso di interesse. Per fortuna degli amici mi hanno parlato di Educare, il programma di corsi informativi gratuiti su temi chiave dell'educazione finanziaria. organizzato da BNL Gruppo BNP Paribas. E adesso sono più consapevole delle scelte che devo fare per i miei risparmi. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!